Amici di Teledeon, bentrovati a questo nuovo appuntamento con speciale interviste. Oggi ci occupiamo di un tema particolare, l'ufficio decentrato prima, ma adesso deve diventare sede dell'archivio storico di Stato, decentrato nel territorio della provincia di Barletta-Andrea Trani. Una dislocazione contesa tra due città, Trani e Barletta. Oggi ospitiamo le ragioni di Trani, che vanta considerazioni di ordine naturale, a seconda della vocazione della città, di ordine giuridico, previsto appunto da alcune norme anche sottoscritte in sede di nascita della sesta provincia pugliese e quindi cercheranno di spiegarci i nostri ospiti perché chiedono che l'archivio di Stato resti a Trani. Nei mesi scorsi è nato addirittura un comitato spontaneo di cittadini che si spendono proprio per ottenere questo risultato. Oggi ospitiamo due rappresentanti. Il primo è il coordinatore di questo comitato spontaneo di cittadini pro archivio di Stato, che è l'avvocato Alessandro Moscatelli. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, buonasera. E ringrazio e saluto l'ingegnere Elio Loiodice, anche lui facente parte di questo comitato, che è il presidente della Croce Bianca di Trani, che aderisce a questo comitato, e il governatore dei Lions della città. Grazie ad entrambi di aver accettato il nostro invito. Perché abbiamo voluto fare questa trasmissione? Non certo per alimentare i campanilismi, ma per fare un po' di chiarezza, perché per esempio a Trani si discute molto della presenza di questo ufficio decentrato dello Stato, perché a Trani l'attenzione verso il mondo giuridico e giuridizionale è una parte essenziale della vita di questa comunità. Sin dall'anno 1000 o giù di lì, oggi cercheremo di capire che cosa sta accadendo. Avvocato Moscatelli, allora, innanzitutto, la presenza dell'archivio storico, dell'archivio di Stato a Trani, possiamo dire che esiste da sempre, ma realmente da quando? Allora, l'archivio storico, l'archivio di Stato non esiste da sempre, nel senso che formalmente è stato istituito da un decreto di Ferdinando I di Borbone nel 1818, poi successivamente confermato con un altro decreto nel 1856. Quindi l'archivio di Stato a Trani esiste dal 1818, seppur in periodo preunitario e si chiamava all'epoca archivio supplettorio. Qual è l'importanza storica di questo archivio che forse nel meridione è uno dei più importanti, insieme a quello di Palermo, di Bari, ovviamente, di Napoli dove c'era il legno, è che a Trani c'era la sede della Gran Corte Criminale. E a Trani c'era, c'è, e spero ci sarà, perché di questi tempi non sappiamo come va a finire, c'è anche l'archivio notarile. Allora, l'archivio di Stato ha raccolto la documentazione giudiziaria a partire da 1400 e nello stesso tempo anche il patrimonio documentario notarile che, per quanto riguarda i primi atti notarili, già oggi è più o meno così. Nell'atto non si metteva solamente il riferimento dell'immobile che si andava a vendere o ad acquistare, ma si mettevano dei riferimenti relativi al territorio, relativi al tipo di attività, all'eventuale titolo nobiliare. E quindi da questi documenti siamo riusciti, siamo i nostri predecessori, sono riusciti a trarre spunto per raccontare la storia di Trani, che è la storia di un territorio, ed è questa che sto per dire l'ulteriore cosa importante del nostro archivio, il territorio che era la terra di Bari, che aveva come provincia. Non Bari lo è diventata dopo, ma Trani. E quindi a Trani ancora oggi ci sono atti che vengono consultati da persone provenienti da Cisternino, da Brindisi, perché la Puglia, quando iniziò la raccolta degli atti, era suddivisa in tre zone, la terra d'Otranto, la terra di Bari e la terra della Capitanata. Quindi Trani, Lucera, hanno degli archivi importantissimi. Tanto è vero che quando furono istituiti gli archivi, con una legge del 1963, furono istituiti in tutte le province d'Italia, in quasi tutte le province d'Italia. Ma il legislatore dell'epoca ritenne di realizzare anche delle sedi che fossero delle sezioni. Infatti, attualmente, finché non verrà dotata della sede provinciale la nuova provincia, noi siamo una sezione di Bari. Per cui, quando arrivarono i francesi, quando arrivò Murat, che portò tutto a Bari, compresa anche buona parte della giurisdizione che avevamo a Trani, la Corte di Appello, che cosa è successo? È successo che non se l'è sentita il legislatore di lasciare Trani, dico un termine crudo ma efficace, all'asciutto, perché Trani raccoglieva tutta la documentazione del territorio giudiziaria, forense, notarile e poi tutto quello che si raccoglie in tutti gli archivi, perché anche la documentazione anagrafica, la documentazione dello Stato civile e dei comuni, dopo un certo numero di anni, viene versata negli uffici degli archivi di Stato, che è, diciamo, la parte, diciamo, meno importante. Ecco, possiamo dire che attraverso i documenti custoditi nell'archivio di Trani si può davvero ripercorrere almeno cinque o sei secoli di vita della Regione Puglia, e comunque di una parte della Regione Puglia, e quindi diventa essenziale per capire realmente chi siamo e da dove veniamo? Sì, 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 sono circa sei secoli, se partiamo dal 1400 sono sei secoli, sicuramente sì, perché, come le ho detto, gli atti notarili avevano questa, diciamo, portata extra atto, noi abbiamo potuto anche, io dico noi perché mi sento tranese, non voglio essere campanilista, gli studiosi, mi riferisco a Lambert, mi riferisco a Orazio Palumbo, mi riferisco a Beltrani, quando hanno voluto un po' scandagliare questi documenti, sono riusciti, ci sono anche testi, che sono riusciti a ripercorrere il percorso urbanistico della città, studiando gli atti notarili. Quindi noi sappiamo della Trani Longobarda, sappiamo della Trani Normanna, bizantina Normanna, perché non solo le ricerche di carattere archeologico ci hanno portato delle testimonianze visive, reali, materiali, ma anche i documenti, per cui noi, per esempio, sappiamo attraverso degli atti, perché nell'archivio di Stato ci sono gli atti a partire dal 1400, però ci sono anche dei fondi, vengono chiamati, dove ci sono anche documenti che per la maggior parte li troviamo negli archivi diocesani, perché la Chiesa, come si sa, ha una storia molto più, diciamo, conservata rispetto, dove siamo riusciti a sapere, per esempio, che la storia di Trani, l'importanza di Trani nell'anno 1000 è dovuta al fatto che Trani è stato territorio non di conquista, ma di residenza di principi Longobardi, che per la loro importanza hanno poi consentito un progresso tale che lo sviluppo urbanistico della città è andato oltre le mura originari che si fermavano a Porta Nuova, Porta Antica, eccetera, facendo emergere una zona nuova al servizio della quale l'insenatura naturale che esisteva è diventata un porto, quel porto che ha consentito poi i traffici, ha consentito tutto ciò che ne residua dal punto di vista storico. Una sorta di porta verso l'Oriente. Verso l'Oriente, esattamente, e sono nati poi a Trani gli statuti marittimi che conosciamo tutti. Che è l'ennesima dimostrazione della vocazione giuridica della città. Ecco, perché ho sottolineato questo aspetto? Perché, e qui veniamo al punto della situazione, perché Trani è all'interno della provincia di Barletta, Andrea Trani, la città con la vocazione giuridica, giudiziaria, cioè con la presenza del Tribunale, della pretura, dell'ex pretura, insomma di tutti gli uffici che afferiscono all'esperienza giudiziaria di una realtà come quella italiana. Questo significa che anche l'archivio di Stato, che è a servizio comunque della giurisdizione, a servizio degli avvocati, del Tribunale, dei notai, dovrebbe avere una sede precisa a Trani. E' questo quello che sottolineate? Allora, noi sottolineiamo questo e non deve essere confuso il nostro impegno con una battaglia per affermare qualcosa che non c'è. E quindi iniziamo oggi. Noi vogliamo invece solo che sia confermi quello che è già stato deciso. Con la legge numero 148 del 2004 è stata istituita la provincia. Sono stati previsti tre capoluoghi, tre co-capoluoghi, Trani, Barletta e Andria. Nel momento in cui il commissario, che all'epoca fu nominato, doveva mettere mano alla istituzione degli uffici periferici dello Stato, bisognava individuare dei territori ben precisi. Nella legge istitutiva della provincia si lasciò questa decisione alle vocazioni territoriali delle città, che nella legge 148 non vengono indicate. Però nel momento in cui fu istituita la provincia e fu sottoscritto lo statuto provinciale, vennero individuate le vocazioni territoriali. Sottoscritte da tutti i sindaci. Sottoscritte da tutti i sindaci. A Trani fu dato il polo giuridico, finanziario, culturale, scientifico e turistico. Questa è legge, questo è regolamento della provincia. Noi non stiamo dicendo assolutamente nulla di nuovo. Nel 2008 il direttore generale degli archivi di Stato, nella persona dell'architetto Recchia, inviò una nota al commissario, alla provincia, diciamo, l'istituente da provincia, ai sindaci, in cui disse in maniera molto chiara, l'archivio di Stato deve essere istituito, la sede provinciale, perché a Trani già c'è la sezione, deve essere istituita a Trani, in quanto Trani rappresenta dal punto di vista storico e usa la parola scientifico per dire all'interno di scientifico cultura, storia, l'aspetto forense, l'aspetto notariero, l'aspetto giudiziario. Mentre la sezione di Barletta deve rimanere alle dipendenze della sede provinciale che sarà istituita a Trani. 11 marzo del 2008. Nell'agosto del 2008 i sindaci ratificarono questa decisione. Noi vogliamo sapere che cosa è mutato dal 2008 ad oggi. Solo questo vogliamo sapere. perché oggi ci sono voci che dicono che l'istituzione della sede provinciale dell'archivio di Stato non sarà più Trani, ma un'altra città. Adesso arriviamo anche a questo, però volevo coinvolgere l'ingegner Loiodice perché tutto quello che ci ha raccontato adesso Alessandro Moscatelli dimostrerebbe una presenza naturale dell'archivio di Stato all'interno della sensibilità di una città. Cioè i tranesi dovrebbero aver sempre considerato l'archivio di Stato parte della propria vita e parte del proprio patrimonio economico e culturale. Ma negli anni l'archivio di Stato di Trani si è svuotato di personale, di dipendenti, di attrezzature. E sembrava quasi che prima o poi, io ricordo feci un servizio nel 2017, forse, nel 2016, quando questa polemica ancora non esisteva, e intervistai l'ultimo archivista presente in questo archivio di Stato, il quale diceva, guardate appena andrò in pensione io e andrò in pensione da qui a un anno o due, probabilmente lo chiuderanno questo ufficio perché qui non saremo più in grado di fare archiviazione. Perché per fare archiviazione di documenti bisogna che ci siano le competenze e ci siano le professionalità per poterli studiare, catalogare, archiviare, ristrutturare, insomma mettere insieme questo patrimonio. Perché i tranesi sono stati così passivi nell'assistere allo svuotamento di questa struttura senza dire mai una parola a favore di questa struttura e accorgersene ora che la stanno portando via? Perché? È una bella domanda che impegna moltissimo a me come persona, ma soprattutto come rappresentante della Croce Bianca, che è un'istituzione di trane, e proprio qui in Teledeon saluto cordialmente i telespettatori e anche il nostro intervistatore Francesco Rossi, mi ha visto qui parlare di una istituzione, adesso stiamo parlando di un'altra istituzione. Rappresento i Lions anche perché sono stato governatore della Puglia e c'è un motivo per cui dico questo, non solo per dire che appartengo ai Lions. Lei ha fatto una domanda veramente importante, non è che i tranesi non se ne sono interessati, io direi che il problema è politico, fra virgolette, in termini di coloro che fanno politica e quindi dovrebbero difendere le istituzioni. È un archivio di Stato, è un'istituzione assolutamente incancellabile, assolutamente inamovibile, cioè non si può toccare da dov'è. Non solo per il fatto che sia a Trani, non è un problema campanilistico, l'abbiamo già detto, e tanto noi abbiamo partecipato a Croce Bianca e a Lions proprio perché non è campanilistico. Parlo dei Lions quando, negli anni in cui ero stato Lions, ed erano proprio gli anni in cui avveniva quella ripartizione, non spartizione, ripartizione delle competenze in funzione della vocazione, si parlava di questo, bene, in quegli anni si decise una cosa che riconosceva una cosa esistente, cioè, voglio dire, era una presa d'atto, se vogliamo. Una sorta di diritto naturale. È un diritto naturale, ma il contenitore archivio di Stato legato all'archivio notarile mi permette di dire altro, cioè la difesa dovrebbe essere anche di chi versa i documenti, di chi va a depositare questi documenti storici e quindi il Tribunale, la Procura, la Fondazione degli Avvocati e altre situazioni, la Conservatoria. Io dico questo perché ho avuto la fortuna di avere un papà che è stato conservatore delle ipoteche, di Trani. Teniamo presente che in Puglia c'erano due conservatorie, Lucere e Trani. Trani occupava non solo il territorio della Bat, ma anche Bari, Lecce, Brindisi e Taranto. Poi c'è stata una riforma legata, vabbè, alla Malfa, ma non è quel il problema. L'ho vissuta perché avevo un papà che si occupava di questo. E ricordo quando i notai, e questo dovrebbe riguardare anche i notai, andavano a parlare con il Conservatore per parlare di documenti che riguardavano atti di compravendita di terreni piuttosto che non di palazzi. Sì, era necessario fare tutta la storia di un terreno. Quindi la documentazione di cui parlava anche l'Avvocato Moscatelli, che ha permesso di ricostruire tante situazioni storiche e che non riguardano Trani, ma riguardano la Puglia. E nell'ambito della mia attività di governatore Lions, quando andavo in giro, mi chiedevano dell'archivio di Stato, cioè questa è la mia testimonianza che ci tengo a tenere, a riferire a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Come Croce Bianca, essendo un'istituzione che emana storia, perché la sto vivendo da alcuni anni, mi permette di difendere un'altra istituzione che emana storia, che è l'archivio di Stato. Quindi qual è il peccato? Non è certamente dei cittadini tranesi che sono lì spettatori, ma di coloro che ci rappresentano politicamente. Non è un'offesa, per carità di dire. Erano distratti da altri problemi? No, riprendessero in mano un po' la situazione. Prendo spunto da quello che dice l'ingegner Lojodice, per dire che in questa trasmissione avremmo dovuto fare intervenire anche un rappresentante delle istituzioni tranesi, il sindaco o chi per lui. Il problema è che siamo in par condicio e quindi per questo non è possibile, almeno fino al prossimo 26 giugno, fino a quando esiste questa legge liberticida che è solo italiana, in questa forma così restrittiva, non è possibile ascoltare rappresentanti politici. Però possiamo dire che i rappresentanti politici di Trani, proprio recentemente, in un consiglio comunale hanno messo un punto importante, hanno fatto un ordine del giorno, approvato praticamente da tutti, che dice che l'archivio storico, l'archivio di Stato da Trani non si deve muovere. Dico bene? Sì, è un atto di indirizzo politico che vincola il sindaco ad insistere nel territorio provinciale, provinciale, quindi in una prossima conferenza di sindaci davanti al prefetto e al presidente della provincia, di insistere e ritornare indietro. Se c'è stata una sua, diciamo, espressione di volontà in cui avrebbe detto che può anche andare in un'altra città all'archivio, non so se c'è stata, non ero presente, non lo posso dire. Fatto sta che non è stato fatto nulla per dire no, fermi un attimo, hanno deciso di farlo in un'altra sede, anzi hanno programmato, speriamo non ancora deciso, di farlo in un'altra sede. Però, se mi permette, il problema non è solo politico dei nostri amministratori, il problema è anche burocratico amministrativo, perché la crisi finanziaria del Ministero dei beni culturali ha, diciamo, una data remota. Quindi sono anni che gli impiegati, i funzionari vanno in pensione e non vengono assunti altri in sostituzione. E non vengono neanche mandati da altre zone. Esattamente. Quindi l'archivio di Stato di Bari, nelle sezioni di Trani e di Barletta e anche nella stessa sede di Bari, dove mi dicevano che all'inizio erano 28 dipendenti, ora, se non sbaglio, sono al massimo 15. Quindi hanno perso delle unità lavorative sia la sede centrale sia le sezioni. Questo ha determinato una, diciamo, chiusura di fatto degli uffici, perché con uno o due dipendenti, alla fine che cosa si può fare? Niente. Ma la nostra lotta oggi tende anche a dare una diversa impostazione di questo bene, che sì, un bene che è legato necessariamente alla conservazione degli atti, d'accordo, ma di dare anche un impulso dal punto di vista storico, culturale e turistico. Io ho proposto, l'ho messo, ho fatto un comunicato, alle guide di Trani e l'ho proposto in maniera pubblica e pensavo che all'assessore alle culture ci devo parlare con calma perché glielo ho accennato e non me la prendo con lei ovviamente perché era una cosa in luce, non ne abbiamo parlato, però mi propongo di farlo con lei e con il direttore dell'archivio di Stato, che è anche il direttore della sezione. Bisogna ricollocare l'archivio di Stato nell'ambito dei percorsi storico-culturali, turistici della zona, per esempio estrarre, non dico gli originali, ma copia dei documenti più importanti, decreti reggi dei Borbone, decreti degli Svevi, eccetera, eccetera, fare delle teche e nelle tappe turistiche della zona fare anche la fermata all'archivio di Stato e vedere anche la bellezza della struttura di Palazzo Valenzano, che è un palazzo del 1700. Così si rivaluta un bene e lo si rende più fruibile alla comunità. La blocco perché ha toccato un altro tema che è importante ed è di queste ore di fatto, perché ha detto che Palazzo Valenzano, che è quello che ospita l'archivio a Trani, è una sede dell'archivio, cioè è di proprietà dello Stato, demaniale. Quindi nessuno li può buttare fuori, non si pagano canoni, non hanno più un costo e tra l'altro, oltre ad essere in una delle piazze più belle, non dico di Trani, ma del mondo, perché dobbiamo anche poi essere orgogliosi della storia, del patrimonio storico che abbiamo, la piazza sacra reggia udienza, che non è un caso che si chiami anche così, è davvero una delle piazze più belle, quantomeno d'Italia, che si affaccia su un'altra delle piazze ancora più belle per la presenza del Duomo, della cattedrale di Trani, della leggina delle cattedrali di Puglia e quindi, dicevo, è un patrimonio assoluto ristrutturato di recente. Quindi lo Stato ha anche investito soldi per rimettere a posto quella struttura, rendendo la degna del luogo dove si trova. Ora ci sono voci, non ancora confermate ufficialmente, che dicono che nonostante le difficoltà di presenza dei dipendenti, nonostante le difficoltà di individuazione del luogo, si sta per comprare una sede, un palazzo a Barletta per poterne fare sede dell'archivio storico. Questa cosa vi preoccupa? Allora, lei faceva riferimento alla par condicio, ma devo necessariamente fare un piccolo riferimento senza buttarmi da una parte o dall'altra, ma in generale. Questa notizia è venuta fuori in piena campagna elettorale a Barletta. Quindi già questo ci consola un po', perché le menande in campagna elettorale sono tante. Ma al di là di questo, il problema delle risorse finanziarie che ha strangolato il Ministero, che è stato costretto a non avere personale per reggere queste strutture, è atavico ed è attuale. Cosa è successo? Che Trani è riuscito, grazie ad un progetto comunale di biblioteche aperte, ad inserire dei percettori di reddito di cittadinanza provvisoriamente nell'archivio di Stato. Come lavoratori. Due. Il direttore dell'archivio di Stato di Bari, che non è tranese e non dico di dov'è, ha inserito qualche settimana fa due unità lavorative all'interno della sezione dell'altra città, dipendenti comunali. Io voglio capire perché a Trani ho nel mio archivio personale due domande fatte da anni di una dipendente comunale del comune di Andria e di una dipendente di un altro ente che avevano chiesto il trasferimento provvisorio, in attesa che il ministero faccia concorsi e tutto quanto, a Trani. Quella di Andria non è stata mai presa in considerazione dal direttore dell'archivio. Guarda caso, da quando stiamo protestando, ho notizia che due giorni fa, finalmente, a Trani è stata trasferita una delle due, che era dipendente di un ente che ha sede a Bari, Bari Barletta. Ecco, finalmente hanno messo un dipendente a Trani. Quindi, caro Elio, è vero che la politica è stata distante da questa istituzione, ma è vero anche che chi amministrativamente reggeva questa istituzione non ha fatto nulla per fare in modo che operassero all'interno anche unità lavorative provenienti da altre amministrazioni. Abbiamo perso, e spero provvisoriamente, il laboratorio di restauro. Nell'archivio di Stato, sezione di Trani, esisteva un laboratorio di restauro. E' quello a cui facevo riferimento. E' in questo laboratorio di restauro, in cui c'è stata la presenza di una cooperativa vicentina del Veneto che veniva a fare questo lavoro, e ovviamente c'era anche lavoro per gente del territorio, ci sono ragazzi che hanno lavorato nel laboratorio di restauro. Bisero un post su Facebook un paio di anni fa, dove dicevano, siamo venuti, noi che giriamo nei laboratori di restauro di tutta Italia, siamo venuti a Trani e siamo rimasti stupefatti dalla bellezza. L'archivio di Stato, sezione di Trani, io non dico l'archivio di Stato di Trani come dice qualcuno in altra città, perché è errato. C'è un funzionario dello Stato, non può parlare di archivio di Stato di Trani. La sezione dell'archivio Stato di Trani, come lo è nell'altra città, ha la possibilità di ospitare, ospita, sette chilometri di scaffalature. La sezione che oggi ambisce a diventare sede attraverso l'azione politica e non l'azione giuridico, storico, culturale, turistica, ha una sede in un seminterrato di un condominio. E adesso, se vogliamo fare il discorso delle risorse finanziarie, le dico anche un'altra cosa. In una interrogazione parlamentare fatta dal senatore Quarto nel 2019, finalizzata a chiedere al Ministero dell'Epoca dell'Interno perché nella BAT è stata istituita la provincia e non è stato ancora istituito l'archivio di Stato, la sede provinciale dell'archivio di Stato, e nella interrogazione faceva riferimento che c'è la sezione di Trani, la sezione di Barletta, la sezione di Trani e così. Il Ministero degli Interni, nella persona del sottosegretario Molteni, rispose a questa interrogazione. Io ho le carte, quello che dico è, diciamo, non lo dico tanto per dire, ma ho le carte. In questa risposta il Ministero Molteni dice se non è stata ancora istituita la sede provinciale dell'archivio di Stato è per il problema delle risorse finanziarie. A proposito, senatore Quarto, nella sua città, che non è Trani, è stato dato un milione di euro, 974.500 euro, per adibire una caserma antica a sezione di quella città. La sezione di quella città non è mai stata istituita, i lavori sono stati fatti a metà e quel milione di euro si è perso. Io ora mi chiedo, e io lo chiederò agli organi misteriali e forse con l'aiuto di qualche altro collega scriveremo anche alla Corte di Conti, ma come è possibile che non c'erano soldi per il personale? È stato fatto un lavoro per creare non la sede provinciale, ma una sezione, perché risale al 1989, non si parlava ancora di sede provinciale, quindi non siete stati capaci di fare la sezione che è rimasta a metà, abbiamo buttato un milione e adesso vengono fuori 4.200.000 euro per acquistare da un privato un palazzo che ha bisogno di almeno altrettanti milioni di euro per essere funzionale, adeguato e funzionale. E di più, le dico anche questo, e ne parleremo il 24 maggio alle ore 19, parleremo di archivi di Stato nell'epoca dell'informatica. Cosa serve prendere con la crisi finanziaria in atto del Ministero una palazzina così enorme se ormai da qualche anno a questa parte è iniziata l'era della digitalizzazione? Quindi stiamo parlando, spero, di butad elettorale. Se la cosa dovesse prendere piedi in maniera seria, noi lotteremo fino all'ultima goccia di sudore, andremo a Roma, parleremo con tutti, perché non è possibile. Si parla in questi giorni di legalità, le notti della legalità, le giornate della legalità, tanto di cappello. Ma se le nostre istituzioni sono le prime a non rispettare le leggi per motivi che non conosciamo... Chiarissimo. Ecco, ma questo comitato sta riuscendo a finalmente a mobilitare anche i cittadini, perché proprio alla Croce Bianca avete tenuto un incontro qualche mese fa ed è stato un incontro molto partecipato sia dai rappresentanti di altre associazioni, ma c'è anche tanti cittadini che hanno sentito il dovere di venirsi quantomeno ad informare e questo è sicuramente un risultato importante. Per una città come Trani, che abbiamo visto farsi passare sulla testa decisioni impopolari senza battere ciglio, ricordiamo, per tutte la vicenda dell'ospedale. Sì, è vero, è proprio così. Abbiamo tenuto questo incontro che era un pochettino, raccoglieva anche incontri avuti con il sindaco, con assessori, con altre associazioni identi per poter far sì che una realtà esistente non venisse toccata. Ed è questo che fino ad oggi, grazie a Dio, stiamo ancora vedendo. Ci auguriamo, come diceva l'avvocato Moscatelli, che questo non accada, perché buttare i soldi dello Stato, secondo me, significa veramente fare un sacrilegio. Uso un termine un po' forte, però è così. Il 24 di maggio, come annunciava l'avvocato Moscatelli, ritroveremo un po' di associazioni, alcuni daranno il patrocinio con degli interventi e quindi, non so, il consiglio notarile, cioè coloro che sono portatori di interesse in questo argomento. Perché se riusciamo a fare questo, secondo me, abbiamo sempre eliminato il problema del campanilismo che non è alla base del lavoro che stiamo svolgendo. Non dico della lotta, sembrerebbe quasi una. No, è un lavoro che stiamo svolgendo insieme grazie all'iniziativa dell'avvocato Moscatelli e di altri che con lui hanno iniziato a comprendere meglio quell'incontro ha avuto in prefettura Barletta qualche mese fa, credo novembre. Un incontro in cui non si riusciva a comprendere se trani cedeva una cosa che in effetti era stata riconosciuta come presente. Chiariamo che in quell'incontro vennero suddivisi alcune su iniziativa della prefettura che diceva attenzione, qui ci sono alcune articolazioni dello Stato che devono essere ancora allocate e in particolare l'ufficio provinciale scolastico e la motorizzazione oltre ad altre strutture. Trani disse e avanzò la proposta di prendersi la motorizzazione e fu detto all'epoca come ci pigliamo la motorizzazione per cui non abbiamo alcuna tradizione e lasciamo perdere l'archivio di Stato? No, mi permetto di dire che non era un baratto, non è che si cede a qualche cosa che esiste. Viene rafforzata la presenza dell'archivio di Stato per la vocazione culturale e di tutto quello che compete alla città di Trani, riconosciuto, non è uno scambio a fronte della motorizzazione. Se nell'ambito delle trattative c'è una concessione in più, cioè si vuole dare a Trani, la motorizzazione ben venga, altrimenti la motorizzazione non dà nulla alla storia di Trani, ma non di Trani, mi permetto di dire la storia di Puglia, cioè noi veramente stiamo parlando di un bene che contiene, al di là di essere un contenitore del Palazzo Valenzano, contiene dei documenti non solo storici ma demaniali che vanno difesi e dei beni demaniali come dirà il 24 maggio l'avvocato Tolomeo, perché chi ci racconterà di questa idea del ruolo degli archivi di Stato nell'epoca dell'informatica, e io ho vissuto nella mia vita anche questo aspetto e quindi la digitalizzazione è importante, fa cadere completamente il discorso dello spostamento da una parte all'altra, la sezione esiste, l'altra sezione esiste, bene, nell'ambito di una provincia deve essere istituita la sede provinciale, beh insomma voglio dire non c'è sicuramente da pensarsi più di tanto, e anche il Ministro piuttosto che non il sottosegretario, mi permetto di dirlo così perché avendo vissuto qualche anno in politica mi permetto di dire, ragazzi, sui casi il termine che uso, cerchiamo di stare con i piedi per terra e guardiamo le cose che esistono, per cui non si può discutere, i lavori di ristrutturazione, io li ho vissuti in prima persona perché ero consigliere comunale, quando nell'ambito della ristrutturazione del palazzo io ho visto delle soluzioni tecniche e tecnologicamente avanzate fatte di recente, non parliamo di 50-100 anni fa, quindi andare a pensare di fare un altro contenitore dove si deve spostare qualche cosa che oggi esiste, mi sembra fuori luogo, è fuori dal ragionamento naturale. Avvocato, per concludere, come ne usciamo da questa vicenda? Voglio solo aggiungere una piccola cosa, se Trani insistesse per la motorizzazione sarebbe la prima a violare i patti della provincia, perché la prefettura è barletta, in tutto il mondo la motorizzazione è un ufficio annesso alla prefettura, quindi saremmo noi i primi a violare le norme dell'istituzione, della provincia e dello statuto provinciale, per cui è assurdo chiedere la motorizzazione, semmai dobbiamo orientarci anche per la ragioneria dello Stato, per altri uffici finanziari, eccetera, perché ci compete. La provincia è venuta fuori dopo tanti anni da un lungo lavoro di mediazione e di equilibri, per cui oggi non è che dice passato usento, dicono a Trani è passata la festa. Quello che si è deciso all'epoca rimane nelle carte e nella storia, non si può cambiare. Nel nostro comitato abbiamo Pinuccio Tarantini, che era uno dei sindaci sottoscrittori di quel documento, l'altro che era un galantuomo, era Ciccio Salerno, il beneamato Ciccio Salerno che ho conosciuto ed era una persona amabilissima, c'è Vincenzo Zaccaro, mio collega di Antri, gente che dopo una laboriosa attività è riuscita a trovare questi equilibri che oggi vengono stravolti, non si sa in virtù di quale situazione. Come ne usciamo? Applicando la legge. E allora, noi ringraziamo davvero di cuore l'avvocato Alessandro Moscatelli, coordinatore del Comitato Spontaneo Trenese Pro Archivio di Stato. Grazie a voi e le devo fare anche un particolare applauso, perché forse è uno dei pochi coraggiosi, che vuole sentire anche la campana di chi sta lontano dalla politica e dalle istituzioni, quasi che l'impegno civico, quello che i cittadini dicono, sia qualcosa di secondo ordine. Però forse, penso, qualcosa l'abbiamo detta la città su questa storia. Assolutamente sì, ed è doveroso da parte nostra dare voce alle città, non soltanto alle istituzioni che sono delegate dai cittadini ad assumersi quegli incarichi e quei ruoli. Ringrazio anche l'ingegnere Elio Loyodice, presidente della Croce Bianca di Trani, governatore dei Lions e aderente al Comitato Spontaneo Trenese Pro Archivio di Stato. Naturalmente siamo disponibili ad incontrare anche l'eventuale Comitato Pro Archivio di Stato di Barletta per sentire anche le loro ragioni, qualora ce ne fossero, e qualora non fosse tutta questa vicenda una macchinazione di palazzo dovuta proprio alla situazione elettorale della città di Barletta. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento per tutti nei prossimi giorni, sempre con speciale interviste.